E tu lo sapevi che se nel banana bread metti anche le fragole fresche diventa mille volte più buono? Andiamo a vedere insieme come si prepara. Metti in un piatto tre banane mature e schiacciale con una forchetta fino a ridurle ad una purea. A questo punto trasferisci le banane in una ciotola. Aggiungi due uova di taglia media, 90 g di olio di semi di girasole e 180 g di zucchero. Mescola con le fruste fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto puoi mettere dentro 240 g di farina 00, se preferisci puoi mettere anche quella integrale, mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di sale. Mescola nuovamente fino a ottenere un composto omogeneo. Ecco qui la consistenza perfetta per il nostro dolce. Taglia le fragole in pezzi, aggiungi mezzo cucchiaio di farina e mescola fino a che le fragole non saranno completamente ricoperte di farina. Aggiungile al resto dell'impasto e mescola con una spatola per distribuirle uniformemente. Trasferisci l'impasto del banana bread alle fragole in uno stampo da plum cake, questo è da 30 cm. Cuoci in forno a 190 gradi per 15 minuti, poi abbassa a 175 e continua la cottura per altri 30 minuti. Lascialo raffreddare completamente prima di sfornarlo. Ed ecco qui il nostro banana bread alle fragole pronto, buon appetito!